Io quando mi fermo in Cagliari vado in Spagna, in Barcellona, mi fermo un po' i ginocchi, per i tendini in Europa. Mi hanno dato il dottor Luca ma da due mesi, un mese per iniziare a lavorare con la squadra. E' il primo giorno che sono andato a Dottor, era il 29 di dicembre, è passato più di un mese, stavo diponendo. Quando ero a Cagliari, prima di fare il preferito a Roma, la partita mia era iniziare contro la Roma. Adesso non c'è nessun problema, secondo me il Presidente, il Direttore del Cagliari, che abbiamo parlato con la Chet, era un mese disponibile per iniziare un'altra volta con la squadra. Non c'è nessun problema. Se pensavo che io stavo facendo questa cosa per fare il preferimento a Roma, io solamente adesso devo pensare in Roma e non solamente per Roma, per loro mi hanno pensato. Dubaldo, piccoli.